Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology, l'Inter batte il Sassuolo 3-4, ma che fatica! Grazie alla doppietta di Romero Lukaku, che è la cosa più bella di questa domenica, e alla doppietta di Lautaro Martinez. Doppietta è dunque due doppiette dei nostri due attaccanti, Romero che finalmente zittisce i nostri tifosi, perché sono loro che lo criticano, non tanto quegli avversari, e zittisce anche però i criticoni in generale, è un bellissimo gol su azione, nonché un grande calcio di rigore, trasformato spiazzando un portiere, che insomma non è di certo l'ultimo scemo arrivato, che è Andrea Consigli, spiazzato anche da Lautaro Martinez sul secondo rigore, ragazzi sacrosanti entrambi, diceva vabbè due gol su azione e due gol su rigore, ho capito che dobbiamo fare, c'erano i falli e non c'è niente da dire, c'erano anche annullato un gol secondo me, non così irregolare, ma vabbè è finita bene, perché il fallo di Lukaku secondo me era dubbio, e Lautaro aveva segnato un altro gol, però non importa, stupendo il più bello, il primo gol di Lautaro Martinez, su azione, angolino alto, gol veramente di livello da parte del Toro. Poi Sassuolo cosa fa? Pareggia con Berardi, prima della doppietta di Lukaku, e poi 2-3, finisce 3-4. Con però un assedio degli Emiliani finale, una difesa che si è comportata bene, un po' di fortuna da parte nostra, e poi fortunatamente nei minuti finali, ma proprio nei minuti di recupero, 90-92, poi dal 93esimo ci hanno riprovato, ma per fortuna è andata male, abbiamo gestito un po' meglio la situazione, anche qualche ammunizione per Bastoni, per Brozovic, quindi insomma non siamo stati di certo perfetti, oggi pomeriggio diciamo. Questa difesa, che era la migliore del campionato, va a prendere 3 gol, di cui 2 assolutamente evitabili, il primo posso anche capirlo, errore di Biraghi, che però gioca in una buona partita, dai, diciamo che dobbiamo dare fiducia a Cristiano, non ottima come quella contro la Lazio all'esordio, dopo i vari anni di allenamento nelle altre squadre, però ci può stare lo stesso, peccato per cui l'errore non ha coperto bene sul destro di Berardi, che peraltro è un mancino, quindi, per il resto ottima gara ovviamente per Lautaro e per Lukaku, Lukaku ha sbagliato qualche appoggio, ma per il resto ha giocato benissimo, due gol bellissimi, soprattutto con la sua azione, e Lautaro migliore in campo secondo me, ottima gara da parte di Andano, invece anche se purtroppo ha preso quei gol, però per il resto si è comportato bene Samir, non possiamo dire ottima, però non è che abbia giocato male, purtroppo i gol sono arrivati, difesa appunto così e così, potevamo fare meglio, Skriniar, De Vrij, Bastoni, vabbè Alessandro dà sempre il massimo, però soprattutto De Vrij e Skriniar, insomma, Biragher abbiamo detto, che andrebbe molto bene per quanto mi riguarda, pochissime incertezze, Brodovic abbastanza bene, Barella molto bene e devo dire, mi è piaciuto abbastanza anche Gagliardini, che aveva il compito di sostituire Sensi, un'impresa non facile, sarebbe stato un ex di gara Sensi, l'altro ex di gara è entrato troppo tardi, come sempre, Politano, ma ha giocato bene, e devo dire che anche Vesino, gli ultimi minuti, io avevo un po' paura, non ha fatto errori, già questo è tanto, e poi chi è entrato? Anche due cambi, finalmente Valettino Lazaro, che è entrato come seconda sostituzione, e mi è piaciuto abbastanza, l'ho voluto bene dal punto di vista difensivo, non ha avuto la possibilità di farsi vedere davanti, ma l'importante era che comunque desse dei segni di miglioramento, e devo dire che ci sono stati per quanto mi riguarda. Se ha solo Inter 3-4, insomma, poteva andare meglio, poteva finire magari 4-1, 4-2, ecco, non 4-3 però, sti cavoli siamo secondi, la Juventus ha vinto ieri, complimenti a loro, 2-1 col Bologna, del grande Sinisa Miaglovic, che sta veramente dimostrando di avere un carattere unico, inimitabile, quindi tralasciando i rancori passati, grande Sinisa, forza Sinisa, e ragazzi, ci vediamo durante la settimana per il commento della gara con Dortmund, senza sensi, probabilmente, insomma, speriamo di non prendere più questi gol gratuiti, che sia in campionato, in Champions, in Coppa, lavoriamo meglio, perché abbiamo una difesa strepitosa, un portiere fenomenale, forse il migliore della Serie A, poi andiamo a fare questi errori clamorosi, quindi vediamo di soffrire di meno, perché io gli anni di vita li ho finiti, non posso guarderli più, se no, poi faccio una brutta fine. Ciao a tutti, sempre e comunque forza Inter, ciao ragazzi.